Di subo della quiete pubblica nella zona del McDonald's di via Sant'Anna Pallanza, il consigliere comunale di Sinistra Unita, Vladimiro Di Gregorio, ha presentato un'interpellanza. I residenti della zona, spiegato, lamentano di essere disturbati la notte da urla e schiamazzi. Chiedo all'amministrazione di ripristinare l'apertura del locale in orari normali, così da superare le criticità sia per i cittadini che per i lavoratori. Ha risposto il sindaco Silvia Marchionini, gli orari degli esercizi sono liberalizzati, ho avuto un incontro con i responsabili di McDonald's che sono stati molto disponibili e che hanno assicurato di voler potenziare la propria sorveglianza. Purtroppo il disturbo nascerebbe da persone che vagano la notte e in questo caso poco si può fare se non chiamare le forze dell'ordine. Ho segnalato il problema al questore. L'amministrazione comunale, ha aggiunto il sindaco, può intervenire, come già avvenuto per un bar di intra, imponendo una limitazione degli orari solo in caso di comprovata responsabilità da parte dei gestori e da numerosi interventi delle forze dell'ordine. Quello è l'unico locale aperto tutta la notte, è ribattuto Di Gregorio e così convergono lì tutti coloro che di notte non desiderano riposare.